Allora, c'è poco da dire, sono veramente commosso perché è stata una serata stupenda. Un grande ringraziamento al CAI Ballabio, al Presidente Marco Anemoli per aver organizzato questo. Vedere il Parco Grignetta gremito, sono qua tutti per te. Voglio dire una cosa, per me è davvero un onore, perché sapere che Ballabio, il nome di Ballabio, è stato portato in giro nel mondo, voglio dire, è fonte di orgoglio. E quindi io faccio una proposta, la butto là ai CAI, potremmo fare una serata per tutte le imprese che lei ha fatta. Una settimana poi! Allora, abbiamo un piccolo pensiero con Paola Crotta che è vice sindaco. Abbiamo pensato una targa con una citazione Grandi cose si compiono quando gli uomini e le montagne si incontrano. Grazie